E' possibile un'altra Europa, anzi l'altra Europa, quella dello stop all'austerità, del lavoro socialmente ed ecologicamente sostenibile, quella che ricontratta il debito pubblico, che utilizza fondi per creare nei paesi membri nuovi posti di lavoro. Un concetto di Stati Uniti, dicono a Barletta. Caro ad Alexis Tsipras, giovane presidente di una coalizione politica della sinistra greca. Si ispira a lui, Gano Cataldo, commercialista per caso, dice di se stesso, esponente di Sinistra Ecologia e Libertà, candidato all'Europena, la circoscrizione Sud. Per fare gli Stati Uniti di un'OPA è necessario che la Banca Centrale presti i soldi agli Stati e non solo alle banche, come ha fatto finora, ed è necessario che ci sia un di più di politica e di intervento. Questa volta il presidente della Commissione Europea viene indicato dai partiti che concorrono e il nostro riferimento è il leader greco Alexis Tsipras, che peraltro ha trionfato nelle recenti elezioni amministrative nei comuni e nelle regioni della Grecia. I riferimenti qui invece sono Berlusconi da una parte, Grillo dall'altra, Renzi dall'altra ancora. È un assurdo ballottaggio tripartito tra il Premier al governo, il capopopolo all'opposizione, il capopopolo decaduto e condannato. Invece ci sono spazi importanti, tra cui quello nostro, l'altra Europa con Tsipras ha unito sotto lo stesso simbolo la sinistra, un'operazione che non accadeva da anni, ha unito la sinistra insieme ai movimenti. Quindi per questa ragione val la pena sostenere questo progetto.